Eccoci qui con Roberto, Gina e Francesco, titolari dell'hotel-ristorante Caraibi, che oggi compiono 60 anni, un traguardo importante. Cosa ci potete dire della vostra storia? Un traguardo di cui andiamo molto, molto orgogliosi. Siamo orgogliosi di quello che è riuscito a costruire papà il 7 luglio del 63, esattamente 60 anni fa. Ha cominciato l'attività con il ristorante Tropical, un ristorante Tropical molto conosciuto a San Benedetto, la maggior parte dei sanbenedettesi dell'epoca si sono sposati al ristorante Tropical. Ci siamo trasferiti al Caraibi, alcuni clienti sono stati clienti storici per tantissimi anni, ne abbiamo alcuni ancora qui adesso. Oggi abbiamo festeggiato con la nostra clientela e insieme a tutti, amici, clienti che nonostante non stessero in hotel sono venuti a trovarci da fuori. Per noi il punto di forza è comunque sempre mamma, mamma, Gina, la regina della cucina, come dicono tutti. Tornano non tanto perché la struttura è un 5 stelle, ma perché l'ambiente è familiare, perché soprattutto si mangia bene. La zona è tranquilla, anche il personale si trova bene, fanno trovare al loro agio i clienti e tantissimi tornano sempre molto volentieri. Dieci anni fa, quando abbiamo festeggiato i 50 anni, si prese aveva 5 anni e è stata lei in braccio Luzio che ha fatto il primo taglio della torta e adesso manteniamo la tradizione. Adesso sentiamo cosa da dire qui la storia del hotel Caraibi che è la signora Gina. Loro hanno detto lei è la storia di questo hotel. Quali sono le sue emozioni? Di cucinare bene, di fare le cose fatte bene, che i clienti ritornano l'anno venturo. Ma i suoi ricordi conservano tanti ricordi qui? Tanti, 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 tanti. Comunque complimenti allora per aver resistito per tanti anni e aver portato la gioia a tanti turisti. A tanti turisti, sì, che vengono sempre perché trovano le stesse cose fatte bene. Francesco, cosa vuoi aggiungere? Allora, io voglio ricordare tutte le persone che adesso non ci sono, che ci hanno mandato gli auguri, clienti storici come la famiglia Camanasio, Liguori, Snider, Paccini, che ci hanno mandato gli auguri. Le ricordo volentieri. E grazie chiaramente a tutti quelli che sono qui. Speriamo di poter festeggiare altri 60 anni. Altri 60 anni? No, te 60 è troppo, dai. Eh, vediamo. Altri 10, dai. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.